Anche quest'estate la Guardia Costiera è pronta ad implementare ulteriormente le attività anche di controllo a tutela dell'incolumità dei bagnanti a difesa dell'ambiente marino e a garanzia della sicurezza di tutti coloro che intendono andare per mare. L'operazione Mare Sicuro 2021, che ha avuto inizio in data 19 giugno 2021, vedrà ulteriormente implementata la presenza delle donne e degli uomini della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, lungo tutte le coste della regione con particolare attenzione ai siti considerati sensibili a causa della maggior affluenza turistico balneare. Nel dettaglio, lungo tutti i 523 chilometri di costa della regione Campania verranno giornalmente impiegati in media circa 100 militari, un numero totale di 48 unità navali supportate da un elicottero della Guardia Costiera nella parte centrale della stagione estiva con il compito di vigilare sull'ordinata e sicura fruizione di spiagge e mare. Si ricorda la possibilità di comunicare attraverso il numero blu 1530 con la sala operativa del comando delle Capitanerie, più prossimo alla località da cui viene effettuata la chiamata di emergenza, anche se quest'ultima proviene da telefonia mobile. Il servizio numero blu 1530 per l'emergenza in mare è sempre attivo sul territorio nazionale gratuitamente per il cittadino. Inoltre, una campagna di prevenzione accompagnerà gli utenti del mare per tutta l'estate, sul sito e sui profili social istituzionali della Guardia Costiera, nonché attraverso la sua storica collaborazione con RTL 125 e con una nuova rubrica curata per gli spazi di pubblica utilità su Rai Isoradio. Si ribadisce che un'estate serena e felice nasce dal rispetto di poche ma essenziali regole. A tal riguardo si raccomanda a tutti i diportisti di effettuare dei controlli preventivi finalizzati a verificare l'autonomia del mezzo, presenza di combustibile a bordo, che le condizioni meteorologiche siano assicurate, che a bordo vi siano dotazioni di sicurezza adeguate al numero di passeggeri trasportati ed in corso di validità. Si ramenta altresì l'importanza di non navigare troppo vicino alla costa, soprattutto se in presenza di bagnanti e in generale si intende fare appello ad un senso di prudenza che impone di procedere a velocità moderata, restando sempre vigili e non sottovalutando situazioni apparentemente semplici. Il quadro normativo è consultabile direttamente sul sito guardiacostiera.gov.it slash agropoli.